Come si sta sviluppando la riesione tra cultura e design nella città? Cultura e design vanno in parallelo, si incrociano e si dividono con un percorso comune e un obiettivo comune, quello di avere maggiore cultura, maggiore bellezza, unire la cultura alla bellezza, che poi sono la sintesi di quello che vogliamo rendere Milano, cioè una città più vivibile per tutti. Siamo assolutamente consapevoli che il design, in particolare e direi in generale il salone del mobile con anche tutto quello che ci sarà in città in quella settimana, sono una ricchezza per Milano e rendono Milano più attraente, più attrattiva e soprattutto la fanno ritornare a livello internazionale perché si dimostra ancora una volta che Milano è, rimane e rimarrà la capitale del design.